Ah, quello ha detto che non c'è nessuno qua, credo. Ma non è che si sono tutti autodoppiati? Hanno fame. Hanno fame? Hanno fame? Hanno fame? Hanno fame? Per molto tempo ho pensato e ripensato a diverse cose. Per giorni sono andato alla ricerca di me stesso. William, oh William, io ti devo dire una cosa, prima di andare avanti. Sei un grandissimo attore, ti voglio bene, so che vivi a Roma, so che ci incontreremo, so che mi troverò bene, so che lo scriverò nel mio diario, sarà una delle esperienze più belle di tutta la mia vita. So che mi vanterò con tutti, soprattutto con la gente originaria del mio paesino. Piano Tavola, un nome ridicolo. E io lo farò pesare che io conosco le star, come è già successo e ho già conosciuto altre star. Però, vedi William, quando dici che il doppiaggio italiano non ti permette di doppiare e che tu potresti farlo bene da solo, ecco, tu sei un grandissimo attore, ma lo sai già in inglese, lo sai già, è scontato, sai quello che sto per dire, ma in italiano. William, ci vuole la dizione, non devi avere la cadenza, manco quella americana. Queste cose non le fare, chiama i tuoi doppiatori, se non è Pannofino sarà Rodolfo Bianchi. Però ti prego, non le fare queste cose, perché Rovini è un film pazzesco, ma non perché tu rovini, tu sei un tesoro, tu sei la Madonna di Loreto, ma non devi doppiare. All'improvviso ho sentito una voce. Sì, la moglie è italiana, Rox, sì. Gianni, il motivo è che il regista italiano, probabilmente, ipotizzo, avranno fatto un accordo diverso, magari economicamente non lo paghi come quando va a fare Spider-Man, però gli dai più libertà creativa. Questo può anche implicare un, senti, io vorrei questa cosa, doppiarmi da solo. Il regista che ti dice di no, che magari ti ha pagato a un prezzo ottimo, non che tu ti sia svalutato, ma non ti possono dare, suppongo, i soldi della Disney. Quindi gli attori americani nei film italiani, io ho doppiato un film come questo, con attori americani in produzione italiana, The Tracker con Dolph Lundgren. Gli attori americani hanno più voce in capitolo, perché il film è piccolino, magari vogliono dire la loro di più rispetto a un prodotto Disney, dove c'è, siamo la Disney, ti strapaghiamo, non rompe il cazzo. Non ci hai causato abbastanza dolore, tu mi hai distrutto la vita. Noi ci siamo distrutti la vita. Sì, lo voglio incontrare anch'io a Roma. Proprio tu che hai colpa ben più grave, cosa avrai? Proprio tu che hai colpa ben più grave. Allora, o lo motivi dicendo è un americano, sempre non piace, perché a livello uditivo non piace, però direi è un americano, non parla la nostra lingua. Se non hanno fatto sta cosa... Non l'hai fatto, non l'hai fatto. Fafà, dimmilo tu. Non serve essere così duro con te stesso, o con me. Non sei un santo, sei un comune mortale. Divertiti. Sbaglia. Balla. La tua anima è al di fuori di te e devi recuperarla. Ok, va bene, però stai calmo, calm down, ok? Sì, sì, Sergio, si sono doppiati tutti da soli. Tutto il cast si è doppiato da soli. Proprio tu che hai colpa ben più grave, cosa avrai fatto? Sì, erano voluti installare olio. Davvero, credi di ritrovare la tua anima qui? Purtroppo non è il primo che ha cominciato ad avanzare queste pretese. Credo che faccia parte dell'ego attoriale, ovvero nessuno può sostituire me e io sono unico. Che è un discorso giusto. Se ti doppiassero nella tua lingua. Eh, ma... Capisci? E poi cosa fai? Rompi le palle nella versione italiana perché c'è la moglie italiana e hai imparato un po' di italiano, ma non puoi controllare la versione tedesca, francese, bla 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 bla. Quindi se dovesse essere vera in un futuro quella tecnologia che ricrea in italiano le voci degli attori americani, cioè dell'attore in lingua originale con la stessa timbrica in italiano, boh, ne dubito. Io non so, ragazzi. Credo che sono dei grandissimi attori. io non sono nessuno, non posso giudicare, però ognuno dovrebbe fare il proprio lavoro nella sua lingua. Poi se sei effettivamente bilingue... Questa cosa di ridoppiarsi è una minchiata che nessuno dovrebbe fare. Negli anni 30 Stan Laurel e Oliver Hardy lo fecero davvero, ma il risultato fu uguale a questo. Esatto. Quasi peggio di scamarcio che si doppia da solo in John Wick 2. Che c***o mi hai ricordato? Che cosa mi hai ricordato? Questo è il discorso, ragazzi. Non sono nella posizione di criticare doppiatori e attori. Dico solo che è spiacevole, perché... Poi è gente che fa una guerra. Non ricordo se lui o Vincent Cassel dissero che il doppiaggio è una mafia. E non fanno entrare, non fanno doppiare. Anche il tizio italiano che lavora in Grey's Anatomy ci ho provato a chiedere di farmi doppiare me stesso, ma non me l'hanno permesso. A me ha dato l'impressione di una cosa detta con un tono tipo mi hanno allontanato per proteggere la gente che deve lavorare al posto mio, che lavora tutti i giorni nel doppiaggio. Non è così, secondo me. Secondo me è semplicemente che se parlate italiano, anche se siete italiani, non siete doppiatori. E lo fece Leonardo Graziano. E' solo quello. Perché Pierfrancesco Favino si autodoppia, Giannini si autodoppia, Castellitto si autodoppia. C'è una formazione solida, teatrale, lo possono fare, proietti. Non mi pare se sia mai... Però era sia attore che doppiatore, ma in primis era attore, capito? Quindi ci sono i modi per autodoppiarsi, facendolo bene. Allora. Chi è quello di Grey's Anatomy? Aspetta che te lo cerco. Attore italiano, Grey's Anatomy. Giacomo Gianni... Come cazzo si chiama? Gianni Nioti? Giacomo Gianni Nioti. Sì, lui, 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 lui. Canadese, tipo, di Roma. A 32 anni in Italia non trovava lavoro. Quando ha cominciato, a 25 anni in Italia non trovava lavoro. Rimaneva come comparsa. E poi si trasferisce in Canada, fa un'audizione e lo prendono per fare Grey's Anatomy. Va bene. Va bene. Eh, ok. È tutto ok. L'ho presa benissimo. Non sto pensando che io ho 28 anni e mi sento un fallito rispetto a lui. È tutto ok! Ok! Non mi giudicare! Sergio! E ora tace. Infame. Tipo i film di Gassman e di Vittorio De Siga. E oltre Grey's Anatomy che ha fatto? Non lo so. Ha fatto, ha fatto. Fammi riaprire sta scheda. Ha fatto Medicina Generale in Italia. È l'unica cosa, una fiction, dirai uno, che ora se lo stanno vantando. L'ha fatta da noi! Ha fatto la bomba in Italia. Ha fatto delle cose. Vedi, poi cose americane. The Race. The Cuban. Selfie. Mystery di Murdoch. Rain. Rain è una bella serie. Ah, è la serie dove c'è il mio buon amico. Come si chiama? Vaffanculo a me. Adam Crosdale. Adam Crosdale. Non mi faccio vedere la foto perché sarebbe in Bant. L'ho conosciuto a Londra. Vabbè, ha fatto. Oh, un tantissimo. Ah! Ha fatto un personaggio in Luca. È una versione originale, me sa. Ha doppiato in Hawkeye? Ci è riuscito a doppiare! Che cosa hai fatto? Se ti vuoi sentire fallito, guarda il curriculum di Favino. Sì, ci penso. Si ridoppiò in Narnia, non fu neanche male. Sì, ma in Rush fu bravissimo, per esempio. Che faceva Claire Ragazzoni. Italo-Svizzero. Tutti i film si doppiavano quando c'era una scena all'esterno. Sì, ma tuttora Wolverine, per la gran parte, è doppiato Logan. Ok. Fatemi prendere Vincent Cassel. L'ha detto Cassel, eh? L'ha detto Cassel. Fa in scese. Se lo incontro, guarda. Gli strengo la mano. Cioè, ma non per quello che ha detto il doppiaggio. Così. Ah, se è argento, se li doppiate in XXX. Ma non era male. Perché il personaggio che faceva era un po'... Passatemi il termine, il personaggio nel film Troietta. E quindi questo tono che lei gli dava, questa interpretazione tutta così... Non che lei lo sia nella realtà. Ci ha dato quella caratterizzazione. Perché qua bisogna specificare. A me è piaciuta. Volevo dire quello. Non mi è piaciuta molto in Mirror's Eye Edge. Che mi fece scoprire Gianni. E che non mi piacque. Quindi, io e mi recupero. Non mi apoi. Non mi piacque. Non mi performance. Un po' di fatto esi che tu non mi ha dato. Grazie.